Presidente, non è il migliore, veda di fare qualcosa perché è il migliore. Grazie, è il migliore. Sì, è il migliore, faccia qualcosa. Grazie, signor, molto gentile. Non sono il migliore, sono uno che si impegna, sono uno che si impegna. Sempre al futuro, dobbiamo andare sempre al bene dell'Italia, quindi nessun rammarico, cerchiamo, auguriamoci che si creano le condizioni perché il Paese si è messo in sicurezza più presto. Non possiamo fare assimbramenti. Non guardiamo quando vede le persone che la fermano così per strada. Non guardiamo ai destini personali, guardiamo al bene del Paese, al bene dei cittadini, che c'è tanta sofferenza in giro. Ciao, grazie. C'è terminato qui, grazie. Grazie davvero a tutti. Grazie.